Ricordo la gente da casa, la pagina Facebook, un caffè con la signora, ovviamente Giuliano non ha votato nessuno per la Coppa Italia, non c'è stato un voto. No, no, mi sono rifiutato di votare. Anche tu, ah ok, quindi hai fatto come la gente da casa. La gente non ho idea cosa aveva deciso, io ho una mia decisione che ho preso, perché secondo me non ci sono stati due giocatori che hanno eccesso martedì, mentre invece per la Sampdoria ho votato Vidal e Bogdà, avrebbe anche meritato Lorente, però l'ho penalizzato perché non è la prima volta che va tu per tu col portiere e poi non riesce a segnare, è già capitato un altro paio di volte, ne manca quella freddezza di saltare il portiere. Sì, sono d'accordo. Io lascio la parola a Paolo. Ma guarda, dovessi dare dei voti per la Sampdoria, vado un po' controcorrente, a me è piaciuto molto Liebsteiner. Infatti qualcuno l'ha votato. Molto, molto Liebsteiner. E ti dirò un'altra cosa, in una partita dove la Juve ha disputato, secondo me, uno dei primi tempi migliori di questa stupenda stagione in campionato, è divertente vederla, cioè proprio ti appassionavi e via dicendo, a me è piaciuto molto Buffon, il quale ha fatto tre interventi, solo tre in tutta la partita, ma sono stati tre interventi determinanti. E tu sai bene che quando un portiere è sottoposto al classico bombardamento e via dicendo, si esalta, si scalda, gli vengono energie nuove, quando invece è costretto a prendere tre palloni in una partita, li prende tutti e tre, come li ha presi Gigi, beh allora c'è da veramente da fargli un applauso, perché giustamente viene premiato normalmente chi segna, giustamente, Vidal, Pogba. Però è giusto premiare anche il portiere. Ecco, mi ha tolto la parola lui, infatti quello che dice... Ma l'hai data adesso te l'ho tolto, mettiti d'accordo con te stesso. No, no, ma quello che ha detto lì Paolo ha ragione, difatti ha fatto una gran partita, quelle parate sono state determinate perché andava sul 2-2, andava. E mettiamoci anche la fortuna della traversa presa da Gabbiadini, che tra l'altro è mezzo Juventus. Io ho premiato i gole ad oro, poi l'Istainer per me è sfondo in una porta aperta, perché a me piace da male, perché a me, io l'ho sempre detto, anche perché poi ha un carattere bastardo l'Istainer, mi piace, perché di solito gli svizzeri vengono così etichettati come persone serie, tranquille, fredde, precise, no? L'Istainer sembra nato a Napoli, si incassa come una ieri ogni volta, diventa rosso, se lo prende con tutti. Con guardaline, sì, 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 è vero, noi lo vediamo lì sotto quando ci parla. Iscate che a me piacciono le persone vive, lui è uno vivo. Sempre è cotto lui, perché respira la bocca aperta, sempre che non ne abbia più. È vero, però, però insomma, altro che non ne ha più, ne ha ecco, ne ha ecco. Ma è bene, quindi, sì, anch'io avevo votato Buffon, perché comunque sia ha fatto il suo. Poi a volte, sai quando si dice che il portiere alla fine è come un gol, di fatto tu pari, ma che ha fatto veramente tre paratone, e infatti con il mio vicino lì allo stadio, dicevamo, accidenti però, ha 36 anni, tutto quello che vuoi, però comunque sia ha ancora i riflessi, perché i riflessi li ha. Anche le gol di Gabbiadini, l'aveva presa la palla, ed era stata difficile quella parata, poi è carambolata male, è arrivato prima Gabbiadini.